Grazie a tutti. Siamo entrati un po' in confusione quando siamo andate sotto di due, di tre, non so semmai di quattro, mi sembra di tre. Poi abbiamo avuto questa forza di riuscire a vincere questa partita che solo è una squadra di pazze può riuscire a fare una roba del genere. Io evidentemente sono così, da un punto di vista di squadra di carattere, devo dire che una partita così poche squadre riescono a vincere.